Buonasera a tutti e in questo video parliamo dell'aspartame, ma ci andremo molto con i piedi di piombo perché si parla del dolcificante artificiale forse più utilizzato al mondo, senza neanche saperlo, spesso e volentieri, e come tutti i dolcificanti artificiali ovviamente non mancano le discussioni, non mancano gli studi che sono contrastanti e allora in questo video ne scopriremo delle belle, ma prima di andare avanti ricorda di lasciare un bel mi piace, condividere il video con i tuoi amici e soprattutto iscriviti al canale attivando la campanellina. Cos'è l'aspartame? Lo troviamo nelle etichette con la sigla E951. Si tratta di un dolcificante artificiale che è utilizzato consapevolmente o inconsapevolmente, i numeri sono enormi, da oltre 200 milioni di persone al mondo. Quindi sono 200 milioni le persone, pensate quante sono, neanche se immaginarle tutte insieme, che utilizzano quotidianamente aspartame. Lo troviamo in oltre 6.000 prodotti dietetici, quindi in bevande, come da masticare, dolciumi, caramelle, yogurt, ma anche nei farmaci, farmaci come sciroppi e antibiotici, soprattutto quelli per bambini che devono avere un buon gusto. E' un dolcificante particolare perché è, a livello chimico, un dipettide. Significa che è una molecola costituita da due amminoacidi, la fenilalanina e l'acido aspartico. Questi due insieme hanno, si è scoperto, un potere dolcificante. Il suo potere dolcificante dell'aspartame è stato scoperto intorno alla metà degli anni Sessanta e da quel momento in poi ovviamente è stato oggetto di studi, di ricerche e di risultati controversi, così come dicevo all'inizio del video. Comunque nel 1981 fu approvato dall'FDA e da quel momento in poi è stato inserito in oltre l'80% dei prodotti come dolcificante alternativo. La base, diciamo, del successo dell'aspartame rispetto agli altri dolcificanti è proprio il suo potere zuccherino che è molto simile al saccaroso, quindi non si discosta molto il sapore dal comune zucchero da tavola. Il suo contenuto energetico è significativo, siamo intorno alle 4 kilocalorie su grammo, così come il saccaroso, molto simile. Ma poi a seconda dei prodotti che viene utilizzato ha un potere dolcificante 150-250 volte superiore a quello del saccarosio. E questo ti dà un buon vantaggio perché significa che in quei prodotti posso utilizzarli di meno per avere lo stesso e identico sapore dolce, quindi per avere lo stesso effetto organolettico. La quantità consentita di aspartame non dovrebbe superiare i 50 mg su kg di persona. Ma le reali quantità che ingeriamo in realtà sono difficili da definire. Perché? Perché nelle etichette dei prodotti, di oltre 6.000 prodotti che noi ingeriamo, non sono obbligati a scrivere la quantità di aspartame presente. E una stima fatta su questo prodotto, su questo zucchero, quindi su questo aspartame, è che le persone che mangiano quotidianamente, quindi cibi confezionati, cibi già pronti, cibi preparati, riescono a ingerire intorno ai 3-5 grammi su kg al giorno di aspartame. E quindi ci troviamo molto sopra la soia dei 50 mg al giorno. E perché è importante questa considerazione? Perché l'aspartame, immaginate, fu scoperta nel 1965 dal dottor James Scalter, che stava sperimentando una medicina contro l'ulcera. Quindi lui utilizzava l'aspartame per cercare di curare l'ulcera gastrica. Cercando di curare l'ulcera gastrica, ovviamente non mancano le sperimentazioni, prima in vitro, poi in vivo, su animali. E tutti gli animali da laboratorio manifestavano delle problematiche sia a livello del sistema nervoso centrale, quindi tremori, degenerazioni a livello neurologico, ma soprattutto avevano una forte incidenza di sviluppare tumore al cervello. E per questo motivo, durante tutto il periodo di studio, questo farmaco non è mai stato approvato. Per un periodo di tempo lunghissimo, per 8 anni non è stato approvato. Poi si è scoperto il sapore dolce e dopo 8 anni diceva vabbè dai, una piccola concentrazione, ma non dobbiamo superare le concentrazioni tossiche, perché poi si diventa tossico per il sistema nervoso centrale e può scatenare famosi tumori al cervello, e quindi lo inseriamo negli alimenti, perché ci dà tutta una serie di benefici. Benefici perché ne possiamo utilizzare poco, ha comunque un buon gusto dolce, ha delle calorie, eccetera. Il problema di oggi qual è? Alla fine lo troviamo nell'80% dei prodotti industriali. In questi prodotti non è specificato quanto ce n'è. Se mangiamo prodotti industriali, rischiamo di entrare con delle dosi molto importanti di aspartame. E queste dosi importanti, in alcuni studi, sono collegate a problematica del sistema nervoso centrale e a tumori al cervello. Dato che l'incidenza poi nella popolazione, se ci pensiamo attentamente, di problematiche neurologiche e tumori è comunque in forte aumento, io farei attenzione a limitare in generale, per altri motivi, per tanti motivi, il consumo di alimenti industriali, alimenti troppo raffinati, alimenti dove aggiungiamo tutta una serie di E, quindi di questi dolcificanti artificiali. La letteratura, ovviamente, non è che è univoca, quindi non ci sono solo studi che ne parlano male, altri studi ne parlano bene, ma nel dubbio, vi dico, torniamo a mangiare cibi veri, frutta, frutta secca, verdura di stagione, legumi, cereali integrali in chicchi, il pesce, le uova, cerchiamo di evitare tutto quello che è allevamento intensivo, tutto quello che è super raffinato. Proprio oggi, ad esempio, sentivo una signora che dice, vabbè, io tolgo il glutine e mi mangio la pasta di riso. Ma perché consigliamo il riso? Si consiglia il riso integrale, perché quel chicco contiene sostanze antinfiammatorie e antiossidanti. Nel momento in cui le vado a raffinare, ci ottengo la pasta, è vero che non ha glutine, ma diventa comunque un cibo morto. E questo non ci piace. Che dirvi ancora? Quindi l'Aspartame, abbiamo risposto alle tante domande sull'Aspartame che arrivavano all'interno della pagina. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto, date un bel mi piace, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Mi raccomando, visitate il sito internet www.danilodemari.it, trovate tutta una serie di articoli, quasi quotidianamente stiamo pubblicando articoli, un po' come dei miei appunti personali, quindi sempre con degli spunti molto interessanti su argomenti di salute, e poi troviamo la sessione della formazione. Quindi anche quella è una sessione che sto arricchendo pian piano. Vi ringrazio ancora dell'attenzione, vediamo se ci sono... Sto molto attenta e leggo ciò che compro. Assolutamente sì, Anna. È molto, molto, molto importante. Fa male al fegato? Beh, non ci sono proprio degli studi che collegano l'aspartame alle problematiche del fegato, però bisogna fare attenzione per altri motivi. Buonasera, grazie per l'argomento, grazie a te di stare qui ad ascoltarmi. Buonasera, dottore, ma non si potrebbe vietare di produrlo. Franca, ci hanno provato, però poi dopo una lunga diatriba, poi non è che vi ho raccontato tutto bene il caso, alla fine per molti, moltissimi interessi economici hanno deciso di inserirlo. Fa male anche quello? Assolutamente sì. E via. Grande dottor De Mali, grazie mille. Ragazzi, ci vediamo domani per un altro importante approfondimento. Non ricordo di cosa dobbiamo parlare domani. Allora, domani che cos'è un olio essenziale? Entriamo un po' nelle fondamenta della fitoterapia. Qualcosa di molto interessante. Ciao a tutti, buona serata.